. Belen Rodriguez entra nella casa, cosa farà al GF Vip? . . Grande fratello Vip, Belen Rodriguez ospite della quinta puntata. . Questa seconda edizione del GF Vip non sembra essere delle più tranquille, prima la squalifica di Marco Predolin, poi la furiosa lite tra Giulia Delellis e Alfonso Signorini e ora al centro della polemica che è finito Jeremias, il fratello della famosa Belen Rodriguez. . 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 La famosa modella argentina entrerà all'interno della casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa ai suoi fratelli, a cui è particolarmente legata. Belen è la sorella maggiore, sarà il suo il compito di informare il fratello di ciò che sta accadendo al di fuori della casa o gli autori hanno chiesto alla presentatrice di Tussi Q e Vales di mantenere il segreto?. Belen Rodriguez, l'ingresso nella casa del GF VIP. Belen Rodriguez ha perso le staffe. Il motivo? La famosa modella argentina è stanca di leggere i duri attacchi fatti dai fan del grande fratello VIP nei confronti di suo fratello Jeremias. Come più di una volta ha specificato Cecilia, suo fratello non è un cattivo ragazzo, è soltanto molto impulsivo e spesso non riesce a pensare con la giusta razionalità. Il web non sembra condividere lo stesso pensiero delle sorelle Rodriguez, tutt'altro. Il popolo dei social, ma anche alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, accusa gli autori del grande fratello VIP di usare due pesi e due misure diverse per i concorrenti del reality. Il fratello di Belen Rodriguez, sempre secondo i telespettatori del programma condotto da Ilari Blasi, starebbe ricevendo un trattamento di favore, rispetto agli altri concorrenti, perché imparentato con uno dei personaggi televisivi più amati e discussi di sempre. Sarà vero o gli autori hanno preferito concentrate le loro attenzioni prima su altri personaggi su cui il web aveva espressamente richiesto di prendere provvedimenti? Non ci tocca che attendere la quinta puntata in studio del reality per saperne di più. Sarà vero o gli autori.